Musica Un anno di proroga per le gradatorie degli operatori sociosanitari, altrimenti in scadenza nel mese di marzo. Passa all'unanimità la proposta di legge in Consiglio regionale che dà di fatto nuove occasioni di assunzione all'interno delle asole della Toscana. Una legge da un punto di vista di legittimità non semplice, sottolinea il Presidente della Commissione Sanità. Da un approfondimento fatto in Commissione nell'analisi del testo presentato, abbiamo visto che ci sono dei precedenti, comunque dei riferimenti giurisprudenziali di Corte Costituzionale che sostengono la legittimità e la potestà legislativa regionale circa la possibilità di ampliare la durata a certe condizioni, per esempio la permanenza dei requisiti di professionalità di chi è in graduatore. Non è una materia assolutamente banale, è la prima volta che si fa, in altri casi in passato, in altre regioni le leggi sono state impugnate, quindi abbiamo scelto con un emendamento presentato in terza Commissione di limitare a un'unica graduatoria, quella degli OSS, che è quella più importante e meno utilizzata che per ora abbiamo. Soddisfatto il primo firmatario dell'atto, il consigliere di Forza Italia Marco Stella. Abbiamo presentato una proposta di legge alcuni mesi fa, devo dire che tutte le forze politiche in questi mesi hanno lavorato sulla mia proposta di legge, cambiando alcune cose, la mia era una proposta di legge omnicomprensiva per tutte le graduatorie, il Presidente Sostegni in particolare, che ringrazio insieme a tutta la Commissione Sanità, ha fatto un emendamento che ha circoscritto l'ambito legislativo soltanto per le graduatorie delle OSS. C'è una potestà legislativa regionale residuale per quanto riguarda le assunzioni delle graduatorie, la Corte dei Conti della Sardegna ci dice che laddove vi sono le graduatorie e non sono esaurite dobbiamo attingere a quelle graduatorie, prorogando anche quelle graduatorie, non ricorrendo per esempio ai medici a gettone perché si risparmia i soldi, oggi si arriva a un voto all'unimità che proroga di un anno quella graduatoria. Certo, l'ambizione oggi non è solo quella della graduatoria, non è solo quella della proroga, ma quella di attingere a quella graduatoria per andare ad esaurire, per assumere quelle 2.600 persone che sono risultati idonei, che hanno partecipato al concorso e che ancora oggi stanno aspettando il proprio lavoro. Quindi il primo passo lo abbiamo fatto, Forza Italia ha fatto quello che doveva fare, lo avevamo promesso, abbiamo mantenuto la nostra promessa, abbiamo fatto la legge, la legge è stata approvata, ora però chiediamo alla Regione Toscana di attingere a quella graduatoria. Un atto importante anche secondo Italia Viva. La storia che inizia con la nostra mozione portata in Consiglio regionale, è un'azione bipartisan, devo dire la verità, l'ascolto dei territori, l'esigenza di tante lavoratrici e tanti lavoratori, l'auspicio, il sogno di lavorare nel sistema pubblico e soprattutto il monito che facciamo con forza alle aziende sanitarie che in questo anno questa graduatoria venga utilizzata, ci sia uno scorrimento effettivo, le persone vengono assunte a seguito di una selezione pubblica e trasparente e in questo caso serve fare in modo che queste persone possano lavorare nel sistema sanitario toscano e per l'appunto evitare processi di esternalizzazione. Quello che è avvenuto in passato è che molte volte con processi di esternalizzazione poi non si faceva scorrere a graduatoria. Per la Lega si tratta di un atto di giustizia. Io personalmente, come tutti gli altri gruppi avevano fatto delle mozioni, nella mia, diverso dalle altre, c'era anche per le altre operatori sanitari perché gli osse sono sicuramente il numero maggiore ma se questa proposta di legge andrà a buon fine e una volta diventata legge verrà riconosciuta senza nessun intoppo vorrei, e ho la Commissione Sanità dalla mia parte, che venga estesa anche agli altri operatori sanitari in attesa di poter entrare nel lavoro. È solo il primo passo, dice Fratelli d'Italia, non creare adesso false aspettative. Adesso la Regione Toscana si deve impegnare a fare un piano delle assunzioni e deve smettere soprattutto di perpetrare, come sta facendo da troppo tempo, una prassi assolutamente sbagliata, per tanti versi illegittima, che è quella di attingere, anziché alle graduatorie, assumendo in maniera regolare le persone, alle agenzie interinali, assumendo a spot magari anche le stesse persone. Ma sulle assunzioni, dice ancora il PD, dipende la spalla di Damocle dei limiti imposti dal Governo. Per quanto attiene poi alla possibilità di assunzione, non ci auspichiamo che vengano assunti tutti coloro che sono nella graduatoria, però è evidente e sappiamo che c'è un limite forte alla capacità di assunzione della nostra Regione, che ormai ha già superato quello che è il limite, cioè la spesa storia del 2004, di vent'anni fa, ridotta del 1,4. Noi speriamo che venga eliminato, permanente quel vincolo non è un problema d'assunzione degli OSS, è un problema d'assunzione di tutto il personale sanitario. Il Consiglio regionale prende atto del referendum dello scorso dicembre, seppur consultivo, e manda in soffitta la proposta di legge di istituzione del Comune dell'Alta Valdera, mediante la fusione dei municipi di Peccioli e Laiatico. Con voto unanime si chiude, così il liter avviato lo scorso anno. Non era vincolante nella sua espressione, ma soltanto consultivo, ma il Consiglio regionale ha ritenuto di rispettare coerentemente la volontà manifestata dagli elettori. Se nella scorsa legislatura diverse furono le fusioni tra comuni toscani, questo Consiglio regionale ha visto un solo procedimento avviato, per di più con esito negativo. È in crisi il sistema delle fusioni? Devo però sottolineare come la regione toscana da oggi abbia 273 comuni, che non sono un numero esagerato di realtà territoriali. Pensiamo alla Lombardia, al Piemonte, addirittura in Lombardia il numero dei comuni supera i 1.500. Quindi la Toscana, anche per ragioni storiche, ha sempre avuto una grande semplificazione amministrativa. Chiaramente il percorso di fusione è un percorso che, laddove opportuno, è sempre auspicabile e praticabile. Credo però che non sia, allo stato attuale di cose, l'esigenza prioritaria della riorganizzazione del sistema amministrativo della nostra regione. In aula, dietro al voto unanime, non mancano però le polemiche politiche. Il centro-destra attacca, progetto fallimentare sin dall'inizio, dicono Lega e Fratelli d'Italia. Fieri ed orgogliosi di aver votato contro alla fusione dei comuni un fallimento taggato PD che avevamo già annunciato quando la proposta di referendum era arrivata in Consiglio regionale. Sapevamo, frequentando quel territorio, frequentando i cittadini sia di Laiatico che anche di Peccioli, che non era visto di buon occhio questa fusione. Quindi il progetto del PD di fondere il Comune di Laiatico con quello di Peccioli è stato sonoramente bocciato dai cittadini di Laiatico e di Peccioli che noi invitiamo a cambiare le amministrazioni nei prossimi mesi. Se andrà a votare il 9 di giugno, anziché per il Comune dell'Alta Valdera, per il rinnovo di due consigli comunali e due sindaci, ci auguriamo che coerentemente al voto di dicembre ci siano delle amministrazioni differenti a governare questi comuni. Si inserisce in qualche modo nella storia delle campagne pubblicità-progresso di questo Paese che dal 71 sono partite per sensibilizzare i cittadini, per avvicinarli all'istituzione e per dare un contributo importante come in questo ambito per esempio alla donazione del sangue. E proprio nel 71 la pubblicità-progresso era partita proprio con una campagna in questo ambito e con questo scopo. E' Avis Toscana il vincitore della seconda edizione del Bando, la Toscana che fa bene promosso dal Corecom in collaborazione con il CESVOT al fine di premiare la migliore campagna di comunicazione sociale realizzata nel 2022-2023 in Toscana. Sono quegli stimoli che servono qualche volta anche nel mondo del volontariato per andare avanti, per cercare di costruire cose nuove in un discorso di promozione di carattere generale del dono in modo particolare. Quindi voglio dire in un momento abbastanza difficile, perché se consideriamo che il numero dei donatori negli ultimi dieci anni in Italia è diminuito di circa il 20%, una campagna di promozione fatta bene, in una Toscana che fa bene, può dare dei risultati importanti. Intanto quest'anno le donazioni non sono diminuite rispetto agli anni precedenti per quanto riguarda Avis, anche se di poco, ma non sono diminuite. E di questo siamo davvero tanto contenti, come siamo contenti dell'esito di questa campagna. È stato anche quest'anno premiato un video molto bello, molto interessante di Avis che parla appunto di quello che poi succede nel volontariato, cioè che uno che fa volontariato lo dice a un altro perché capisce che fare volontariato, donare qualcosa agli altri è qualcosa che dà qualcosa anche a se stesso. E quindi questa esperienza che viene rivelata agli altri suscita interesse e quindi suscita anche la possibilità che altri possano avvicinarsi al nostro mondo. In questo caso della donazione del sangue, che è proprio questo passaparola che è la testimonianza per poter avvicinare sempre di più persone al volontariato. E credo che questo video avrà molto successo perché sicuramente comunica bene questo tipo di esperienza. E' esattamente in linea con quell'idea che noi nella festa della Toscana abbiamo voluto portare avanti con forza, con le parole di Don Milani, I care o a cuore, con tenersi, prendersi cura degli altri ed è quello che fanno le tante associazioni di volontariato e provarlo a raccontare così come ha fatto Avis Toscana che vince il premio come miglior video va esattamente in questa direzione. Quindi dal diritto, alla storia, dalla scienza politica, all'architettura. La tesi che ha vinto è una tesi di architettura e che mostrano come gli studi europei abbiano bisogno del concorso di molti saperi per una migliore comprensione anche del nostro presente. Nel secondo anniversario della scomparsa di David Sassoli a Firenze la cerimonia di conferimento del premio di laurea intitolato proprio all'ex presidente del Parlamento europeo, l'Europa, le regioni, i cittadini, rivolto ai laureati degli Atenei Toscani e bandito dal Consiglio regionale. A vincere Jacopo Battisti, laureato sia all'Università di Firenze, che ha affrontato dal punto di vista architettonico il tema delle crisi dei migranti e degli spazi di accoglienza. Ha voluto sottolineare quelle che sono le mancanze dal punto di vista progettuale degli spazi umanitari, specialmente dopo la crisi dei migranti del 2015. Quello che si voleva sottolineare è che l'architettura non è uno, come si può dire, uno sfondo passivo nella poi qualità della vita, ma che in realtà rispecchia alcune contraddizioni. Secondi ex equo altri quattro laureati, Francesco Bortoletto e Pietro Chiarelli dell'Università di Firenze. La mia tesi l'ho incentrata sulla conferenza sul futuro dell'Europa, che è stata un'iniziativa, un grande esperimento di democrazia partecipativa, organizzata dalle istituzioni europee, alla quale ho avuto la fortuna di partecipare, di assistere da giornalista durante il mio tirocinio a Bruxelles. Con una tesi in diritto dell'Unione Europea sul controllo degli investimenti esterni diretti e in particolare sul nuovo regolamento europeo del 2019 che regola la materia e che stabilisce un meccanismo di cooperazione fra stati nel controllo degli investimenti esterni diretti. Sono molto grato al Consiglio regionale e alla Commissione per il riconoscimento del lavoro e soprattutto per l'organizzazione di questo evento che ha uno scopo molto nobile. Francesco Genoni e Agnese Clementoni Cherubini, laureati a Pisa e allievi della Scuola Superiore Sant'Anna. La mia tesi si concentrava sul mercato di scambio delle quote di emissione dell'Unione Europea, quindi su questo mercato in cui le imprese possono scambiare quote di emissioni e quindi progressivamente ridurre le emissioni totali di gas a effetto serra. Io mi sono concentrata in particolare sulla loro natura legale, quindi andando a effettuare una riflessione più ampia su come recentemente i diritti economici dei privati non sono solo uno strumento privato ma anche uno strumento per il raggiungimento di fini pubblici e interessi collettivi. Un premio sottolinea il Presidente del Consiglio regionale per sottolineare l'attualità del pensiero di Davide Sassoli. Davide Sassoli ha avuto la grande forza di avvicinare l'Europa sui territori. Spesso i cittadini non toccano con mano quanto siano importanti le decisioni che si assumono in Europa, invece sono tante e riguardano la vita di ogni giorno. Se non avessimo avuto le risorse che arrivavano dall'Europa non potevamo permettere da quest'anno di avere i nidi gratuiti sotto i 35 mila euro di Isee per tante famiglie toscane. Alla cerimonia di premiazione anche i membri dell'Ufficio di Presidenza e quelli della Commissione Europa Veneri, Vannucci, Pescini, Merlotti, Mercanti, Galli e Paris con il Presidente Francesco Cazzetti. La gioia, l'emozione del vedere queste ragazze e questi ragazzi che noi andiamo a premiare e veder anche valorizzato il loro lavoro guardando soprattutto alle prospettive di un'Europa che deve essere ancora più rafforzata e costruita partendo proprio dalle idee delle giovani generazioni che era la cosa alla quale forse teneva di più. Per ricordare un grande europeista e per fare in modo che le nuove generazioni conoscano più che mai l'Europa che ci dà tanto, ci dà tanto con non soltanto risorse perché ultimamente di Europa l'abbiamo ovvero rivalutata solamente da un punto di vista di risorse ma ci dà tanto anche di valori. Ed è fondamentale quello che sta facendo il Consiglio regionale della Toscana, l'Ufficio di Presidenza perché prova a ricordare con i ragazzi, con i loro lavori, con i loro studi come si sta nelle istituzioni e come l'Europa può giocare un ruolo fondamentale nella vita dei giovani. Grazie per la visione!